Non solo sono a San Siro, ma addirittura ragazzi mi toccherà sventolare il telone della Champions. Chi l'avrebbe mai detto? Lascia un like per supportare il canale e vi porto con me a centrocampo. Mi hanno dato da mettere questa maglia perché bisogna essere eleganti per scendere in campo. Ora mi cambio e vi faccio vedere l'outfit. Il Buombrogna è pronto a sventolare, farò del mio meglio. Salutiamo qui i colleghi, colleghi sventolatori. Sono emozionato. È chiaro ragazzi che a sventolare non è che prendono tutti, bisogna avere un certo aplomb, una certa esperienza, una certa bellezza se vogliamo. Basta minchiate, andiamo in campo. 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 E' lui, e' lui, e' lui, e' lui, una corsa un po' faticata, cazzo, si quadra sui pesimi del carrello. E' lui, e' lui! Un'erogea! E' bello, e' emozionante l'urlo da centrocampo da privilegi, bello, bellissimo! un bagnato pratico non so se mi sentite una tanta roba, esperienza bellissima ragazzi lasciatelo like chi vi porta questi contenuti se non me lo voglio purtroppo bisogna riconsegnarli è davvero affezionato